C'era la morte naturale che ci dava Padre Eterno, c'era quella di fare una piccola rincorsa su questi fili spinati e farla finita, tanto era inutile continuare a vivere e quella di presentarti all'ambulatorio, non c'era una cura per un palato e perdono, c'era il foglio di via, le cameregano.